Gentili telespettatori, buona giornata. La Ferragni va in montagna, l'hotel vuole, visto che c'è lì la Ferragni, fare una foto per pubblicità, la mettono in rete e vengono ricoperti letteralmente dagli insulti, fino a che a un certo orario decidono di cancellare la foto dai loro profili perché era controproducente, quindi stava diventando assolutamente pubblicità negativa. Questo è quanto risulta a gambero rosso, l'albergo è stato costretto a rimuovere il post perché la pagina è stata mandata in tilt da commenti di odio e di disaccordo per quello che succede all'imprenditrice digitale. Una notte presso l'hotel De Mascognaz a Champoluc, l'albergo ha apprezzato e condiviso il post sul proprio profilo Instagram, ma dopo poche ore avrebbe dovuto eliminarlo, subissato da insulti contro l'imprenditrice digitale e contro l'hotel. Grazie a tutti e arrivederci a presto.